mister da domani iniziano tutte finali l'importante sarà affrontarle con lo stesso spirito con cui i ragazzi hanno affrontato il derby ha lavorato su questo in questa settimana sì sì ma la prima cosa che gli ho detto martedì nella ripresa è normale che preparare una partita del derby è sempre più semplice speriamo che invece che hanno capito l'importanza che che ha la partita di domenica perché sicuramente incontreremo una squadra che in salute un campo che sarà stretto quindi poche palle giocabili soprattutto negli spazi dobbiamo fare una grossa partita non possiamo sbagliare a livello mentale e proprio di comportamento a queste gare che ci portano magari a sbagliare qualcosina in più e ad avere fretta nelle giocate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti